Vedi, quest'oggi è una sorpresa per te, sei contento? Che cos'è, Steph? Questo maiale Vabbè, bello, bello, sono felice, sì, sì, mi piace, guarda Ci stiamo già guardando negli occhi, siamo già in sintonia qui, Steph Stiamo già programmando come ucciderti e vivere solo noi due Infatti è una bella sorpresa, sei soddisfatta, no? Moltissimo I consolini in realtà sono già qual è la vera sorpresa Perché l'hanno visto dalla copertina Tu lo scoprirai nei prossimi minuti Probabilmente ti metto un po' di curiosità, capito? Perdo un po' di tempo Quindi non è il maialino No, non è il maialino, maialino Portiamocelo dietro, Steph, è carino Se ci vuole seguire, va bene, altrimenti no E la sorpresa è questa Non so come si usa Come non sai come si usa? Volevo Infatti che mi hai dato, che è stato? Non lo so, tu lo sai? Io non ho idea Aspetta, non è che la dobbiamo ricaricare con le corde? Eh, come? Steph Cioè, quindi oggi mi porterai a fare arrampicata, no? Beh, se sapessimo usarlo, sì, più o meno Se riusciamo a fare la funzione, sì Però non ho idea Non capisco Sto a far funzionare Steph Niente Non è che le sorprese sta a fare Aspetta Ho capito Ho capito Ho capito Allora devi tenere il premuto destro E mirare su qualcosa Che figo Vieni a vedere Aspetta Ho creato delle scale a distanza E tu poi vai qua E ti ci arrampichi Bellina sta roba però Quindi non è per arrampicarci Sì, l'ho fatto qua Sì che serve ad arrampicarsi, vedi Così puoi salire sull'albero No, pensavo Dovessimo lanciare una corda Cioè mi sembravano corde queste qua Anche a me Dove lo stessi ce l'ho Anche poi le chiama corde Sinceramente Quindi Evidentemente fa delle scale di corda Ok, questa è la tua sorpresa Praticamente tu sali Spacchi queste di legno Ok E una casa sull'albero Sei contenta? Sei seria? Guarda che bello Dai non è questa La miglioro? Aspetta Tu sai fare belle sorprese Questa è una fesseria Quindi Steph Non continuare Guarda, 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 guarda Una casetta perfetta E i consolini Sanno che ti sto continuando A prendere in giro Però è una bellissima casetta Dai ovvio Non può essere questa la sorpresa Allora bello questo Però Steph Che ci serve? Ok, seguimi Andiamo C'è un qualcosa Ovvero la tua sorpresa Che non dista troppo da qui Che è appunto la sorpresa Che la vedrai Impazzirai Urlerai Direi oh mio Dio Steph è bellissimo Oh mio Dio È fantastico Ma ora non lo dirò mai Dirò magari Oh mio Dio Questa sorpresa è bellissima Però Steph è bruttissimo lo stesso Ovviamente si puntualizza sempre Sta roba Per a qualche giorno Quando uscirà il prossimo video di Lucky Risk Cambierai idea E non dico altro Ok Allora Si inizia a intravedere qualcosa? No Cioè perché Steph? Cioè hai fatto una me gigante È la tua nuova casa Ah è una casa? Sì È una casa Cioè io Devo vivere dentro me stessa Beh sei sempre stata abbastanza egocentrica Ho pensato che fosse l'altro No ho capito Un po' strano Beh ma te sei strana No? Grazie Complimento Prego quando vuoi Allora Teoricamente Ah me ne è carina dai Me ne è carina Teoricamente dovremmo utilizzare Questo appunto Leather gun Per salirci dentro Però sono un po' preoccupato Quindi avviciniamoci piano piano E sperimentiamo questo Steph adesso fai una scale Distruggi tutto Cioè secondo te devo mirare in alto o in basso? Al braccio Io vedrei al braccio Aspetta Vediamo Provo Secondo me il braccio si interrompe Con la mano Ma non mi parte E quindi non va bene Non ti parte? Perché non mi va più? A me è andato Guarda A te è andato Vedi? È ok però poi come arriviamo Esatto Speriamo tipo nella testa o nella spalla Così? Cioè dove hai messo l'ingresso Steph? Dove è la porta? È in una spalla Ok E basta però stai esagerando No perché è un parkour Ok Sembrano trecine Così va bene no? È rovinata la mia schiena Scusami Stai qui in due secondi L'hai già rovinata La mia È orribile Ma ti sembra che può avere quelle cose? Sembrano bretelle staccate Ci vuoi salire? Sì Ecco Ma è orribile E poi le togliamo dai Mettiamo fuoco No non le toglierei mai Non le toglierei mai Ok Ci sono anche strani che sono Non lo so Allora Ok sono qua Steph Siamo nella mia spalla Stai anche cadendo Non è vero Allora Lo so Ti ho visto Cosa? Che stavi cadendo Non è vero Non te l'aspetteresti mai Ma indovina qua c'è un passaggio segreto Non si nota Non si nota Però c'è C'è cascata di sotto Fede Aiuto Torna qua Per favore Non ci riesco Fede Steph è troppo basso Aspetta Ma Ma dove sei finita? Di sotto Ma what? Cadi subito È un problema Ho fatto un errore Ho rovinato tutto Allora sì Vieni Non hai visto nulla Scendi Vieni Cosa è successo? Dai dai vieni Vieni qua Non sto capendo Sali su Cioè? Risali Ok ok Non ti sto capendo Stai diventando ambiguo Praticamente Quella era la seconda stanza Porca miseria Abbiamo sbagliato l'ordine Perché siamo caduti Verso il basso Ok Ah quindi questa è la prima stanza Tu teoricamente Entri da qua Sì Devi saltellare Ok No non rifaccio più Perché mi cado Comunque tu praticamente Entri appunto così E questa è la tua prima stanza Abbiamo il lettino Abbiamo una bella cessa Per depositare gli oggetti Altri possibili depositare gli oggetti Qua ti puoi suonare il tuo bel piano Ti metti così È carina dai Insieme a Steph E suoni il piano E questa è la prima stanza Bella È un acquario Ma perché è tutto nero? Perché il pesce è morto Oppure non si vuole far vedere Perché gli interessa la privacy Esatto Vero? Ah sai che cos'è Hai i vetri dell'acquario oscurati È quello Come le persone ricche Esatto Quando vanno nell'auto E tu puntualmente ti metti a fissare l'auto Per capire chi c'è dentro Perché se non ti vogliono far vedere Tu vuoi vedere Però Quindi adesso noi vogliamo vedere il pesce Devi respirare caro mio sei fregato E quindi ti vediamo Mi dispiace Ok allora Poi Si scende così Cerca di bilanciarti nella scala Ok Ok E tu vai qui Come se fosse una sorta di ascensore Ok Apri E c'è il bagno C'è il bagno Così Viglina comunque la casa su più piani Così quando ti scappa Fai veloce Capito Perché c'è Tattata No per favore Faccio la pipì Dai non mi chiuderò Steph Dai sto scherzando È colpa tua Non sto facendo la pipì Poi appunto Si scende Ok Io ho paura con queste scale E questo è un open space Vedi non ha neanche la porta Oh bello Ed è la cucina Piccola però funzionale Non riesco Eccomi Eccomi non ci riuscivo Guarda Steph il tè Anzi questo è caffè Perché io bevo solo caffè Esatto Poi tostapane Se mi piacciono i toast Il forno comunque c'è Che non uso Perché non so cucinare Dove tenere il cibo Guarda ti metto anche il cibo dentro Pieno di gelati Il frigo No no gelati Steph Non bistecchi E non ce ne abbiamo Eh mi dispiace Ok Allora non è un bel frigo Non è un bel frigo E c'è anche il microonde Soprò il frigo Non è proprio la cosa più sicura del mondo E guarda che anche la nostra cucina Che di quelle preinstallate Ha il frigo E il forno attaccati È vero E mi ricordo che appena ho letto Il libretto di istruzione Il frigo diceva Mi raccomando Non installatelo vicino a un forno Leggo quelle del forno Mi raccomando Non installatelo vicino a un frigo E dico Cavolo l'avete fatta voi la cucina E vabbè Una bellissima storia Ogni volta che usiamo il forno rischiamo di esplodere Ma noi viviamo felici lo stesso In ogni caso quindi Ricapitolando Camera da letto Bagno Cucina Ok Si scende ancora Ok Piccolo soggiorno Ah caribuccio Per guardare la tv Esatto E ovviamente Il difetto è che mancano le finestre Però se ci sono state le finestre Poi non avremmo potuto Certo Sarebbe Le mie braccia sarebbero Braccia Esatto Poi ho un'idea per dopo Poi un'idea per dopo Allora Poi vieni qua E c'è youtube Perché dopo che hai Dormito Andato in bagno Fatto colazione E guardato un po' di tv Poi finalmente Sedirti qua E lavorare Allora se levi la tv di mezzo È praticamente la mia routine Mattutina Mi alzo Vado in bagno Faccio colazione E mi metto sulla scrivania Per i video La tv non c'è E quindi questa è appunto La postazione del lavoro Poi scendi ancora Bellina Che poi la sedia è rosa Come la mia La scrivania è grigia Come la mia Mi sto incastrando Aiuto Steph Ce la fai? Sì Arrivo Giocattoli perché sei Un'eterna bambina Io ne ho tanti Giocattoli Steph Infatti non Non sono sufficienti questi Per far vedere Mancano le bambole Perché io Ovviamente un debole Lo sono tutti per le bambole E ne hai 200 Che colleziono Però ne ho due Ne ho due Perché dopo che ho iniziato A collezionare un tipo di bambole Però se mi fanno Non è comprare troppo Perché quella Siamo doveva mettere Quindi ne ho comprato due Non c'abbiamo spazio a fare Beh lo so Infatti sono in mezzo alle scatole Entrambe E la mia scrivania E la mia scrivania metto Quello che voglio Ecco Quindi non dire che è sbaglio Ne compriva tantissimo Scendi ancora di sotto Non mi perderai mai Ok Ok E scoprire che Steph In realtà ti ha fatto fare Quelle scale inutilmente Perché potevamo Entrare qui Cioè tu hai rovinato la mia skin Mettendo sta cosa Ah E potevamo salire da qui Sì esatto Però Perché non l'abbiamo fatto Cosa? Perché non l'abbiamo fatto Perché ti volevo far arrampicare così Era più bello Ok Mi è venuta un'idea Ok Sono andato in game mode Così ti tolgo queste Grazie E mi perdoni Prima di tutto Poi ho pensato Potremmo provare a fare Delle finestre Con i vetri Del colore Del blocco Che c'è in quella esatta stanza In modo tale Che entra anche la luce del sole Però allo stesso tempo La skin sembrava Omogenea Ci può stare Bene è un buon tentativo Ci può stare Proviamo dai Vediamo se funziona Male che vada Abbiamo fatto un'altra rovina skin Come le tre Assolutamente Ti ho visto eh Lo so che mi hai visto Ti ho stendita in silenzio Ti ho visto Mi hai maledetto In tutti i modi possibili Immaginabili Io ti vedo sempre Quindi E ti ho rivisto Allora Vediamo un pochettino Ah io rimando su Da qui La finestra Potrebbe essere Tipo questa E qua Vado io Aspetta Aspetta Da che stanza iniziamo? Yellow Dalla Dalla prima Ok Ok Potrei fare Tipo così Più questo Giustamente Fare così Così Ah è troppo gialla È vero? Quel punto il vetro bianco O se non scusami Fa una cosa Questi levali Fa la qui Marrone Marrone è meglio Può fare una finestra qua Una finestra qua Ok Allora Brown Vediamo un pochettino Magari a due Guarda eh Così esce anche un po' più luminoso Addirittura Non cade la sabbia Sì che cade la sabbia ovviamente È stata una pessima idea Ok Vabbè Rimetti il vetro Leva la sabbia Rimetti la sabbia E niente Fa fare un sacco di lavoro Allora Andiamo Vado da fuori Ok Ok vai Vediamo È un pochino più brutta Dov'è? Vedi Dove ci sono gli occhi Vedi Però non è orribile Non è orribile I'm watching you Steph Esatto Diventa esattamente inquietante Guarda tu ti metti là E nel metrino sono qua Allora guarda Fai la scena No rimetti la faccia Questa è una cosa bellissima Che devo assolutamente fare Steph Ti prego Ok Tu rimettiti nella faccia Ci sono io nella scrivania Che mi gira E ti guardo così Basta In bagno niente finestra No Privacy Esatto Invece in cucina è importante Eh però qua c'è la sabbia Eh facciamo un disastro Scul Togliti Non dove c'è la sabbia Steph è troppo È troppo è troppo è troppo è troppo E anche perché non sporge da qua Tipo qua Qui sopra Ho trovato Qui sopra Questo blocco Di questo colore Che colore è? È un colore molto particolare Vero? Dice grigio Vediamo cosa abbiamo È tipo color È tipo color Portora Non mi viene Scusami così Sì Ci sta Vado a vedere da fuori Sì Vediamo Ok stiamo cercando qua di migliorare la vita Dov'è? Dove dovrebbe risultare? Guarda vedi la mia scritta Beh guarda Sempre io inquietante Che ti osservo Non è male no? Dai contanto che nella schiena Non è malissimo Ci sta Ci sta Ci sta dai Abbiamo fatto un buon lavoro Comunque guarda Da apprezzare anche il fatto Che qua ci sono gli occhialetti Allacciati Con i cappelli È piocchetto È appunto È un bel lavoro È un bel lavoro In ogni caso Dai ci fermiamo così Vedi te se viverci o meno Scelta tua Sì l'importante è che tu non puoi entrare Ecco grazie mille Qua sotto compariranno altri video Iscriviti al canale Cliccate a capire E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao